Sindaco dunque nel Comune di Vallefoglia, fervono i preparativi per la seconda edizione di questa fiera? Abbiamo già un'adesione di una cinquantina di imprese e ovviamente essendo la seconda edizione di tre giorni rispetto all'anno scorso pensiamo che possa venire tanta gente, tante famiglie con i bambini, le imprese e le tre iniziative fondamentali sono la prima l'inaugurazione diciamo il venerdì sera con un ragionamento con degli esperti quale tipo di grano è più conveniente per le imprese agricole, in secondo luogo diciamo le infrastrutture e soprattutto la viabilità Fogliense e diciamo Montalabatese che passa allo Stato cosa cambia e come aiuta a sviluppare il sistema produttivo ed economico. Il terzo elemento è quello di un confronto istituzionale su un contratto di fiume come fare investimenti importanti di milioni di euro su quella vallata per migliorare le qualità dell'acqua, fare un sistema di mobilità dolce e pedonale ciclabile e soprattutto poi tanta enogastronomia, è l'anno internazionale del cibo quindi ci sarà tanta roba da mangiare dal pesce della perla di fano a i macellai locali che diciamo cucineranno delle bistecche favolose e quindi tutti quelli che sono buon gustai oltre che ammirare i prodotti locali, la genialità del territorio della vallata possono stare a divertirsi fino a tardanotte, più c'è anche ballo, divertimento, i giovani, i bambini. Ovviamente vi aspettiamo alla seconda edizione di una fiera che sarà sempre più di carattere internazionale come è il sistema produttivo di questo territorio della vallata ma dell'economia delle marche e il Sant'Arcangelo che è un po' il patrono di questi territori, soprattutto di Talacchio e la possibilità di confrontarsi in un sistema produttivo che è molto ricco e che vuol crescere ancora per avere la piena occupazione.